Annuncio, dialogo, discernimento, misericordia, fare rete fra istituzioni, università e religioni sono i criteri che devono ispirare una teologia dell'accoglienza, una teologia rinnovata nel senso di una chiesa missionaria. Nel tracciarne la rotta, Papa Francesco guarda soprattutto al Mediterraneo, da sempre luogo di scambi e talvolta di conflitti, che pone una serie di questioni spesso drammatiche. Per affrontarle serve un dialogo autentico in vista della costruzione di una convivenza pacifica fra persone di religioni e culture diverse che si affacciano sulle sponde di questo mare del meticciato. Il Papa esorta quindi a fare corsi di lingua e cultura ebraica ed araba. I musulmani, dice, siamo chiamati a considerarli partner per costruire una convivenza pacifica anche quando si verificano episodi sconvolgenti ad opera di gruppi fanatici nemici del dialogo. Centrale ricorda è anche che i teologi siano uomini e donne di compassione toccati dalle sofferenze di tanti poveri a causa di guerre e violenze. Si tratta quindi di riprendere la strada in compagnia di tanti naufraghi, incoraggiando le popolazioni del Mediterraneo a rifiutare ogni tintazione di riconquista e di chiusura identitaria. Una teologia dell'accoglienza che come metodo interpretativo della realtà adotta il discernimento e il dialogo sincero, necessita di teologi che sappiano lavorare insieme e in forma interdisciplinare, superando l'individualismo nel lavoro intellettuale. Forte quindi l'invito a ripartire dal Vangelo della Misericordia. La teologia sia espressione di una Chiesa che è ospedale da campo, che vive la sua missione di salvezza e di guarigione nel mondo. La Misericordia non è solo un atteggiamento pastorale, ma è la sostanza stessa del Vangelo di Gesù. Vi incoraggio a studiare come nelle varie discipline, la domatica, la morale, la spiritualità, il diritto e così via, possa riflettersi la centralità della Misericordia. Grazie.